Eccolo qua, Doku Super Saiyan 4, siamo tornati gente, man vs man, uomo contro donna, esatto, e ora ci sono tutti i personaggi, a me, con, quasi quasi, però c'è tipo, tieni premuto select e sceglilo, ok, io invece proverò con, così, vediamo un po', se l'ho fatto, se l'ho fatto giusto dovrebbe venire con un custom alternativo, esatto, esatto, vediamo chi è il vero Super Saiyan 4, sono io, no, sono io, eccolo lì, E' tutto poligonoso, invece io ho il vestito, ah, au, spalla palle, palle, come cazzo le tira? Palle, palle, aspetta, aspetta, au, aspetta, vai, lancia, come cazzo le tira? E' c'è, fai un attimo, ehi, tieni, 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 ah, non palla neanche, no, devi tenere premuto, Allora, no, 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 au, no, au, no, au, non riesco, Non riesco a farlo, non riesco a farti la supermosa, sì, e chi se ne frega? E' inutile, io sono il vero Super Saiyan, perché io sono, sono, ah, au, che figlio l'amese non è, Stupido bersaglio poligonale Ho vinto Esatto, era una domanda Non eri tanto con le gran che? No Ah, cambiamo? Sì, quel bersaglio poligonale mi fa veramente sì Dai, è bellissimo col poligoni No Vediamo se riesco a farlo anch'io Io voglio scegliere... Majin Bu Dai, voglio scegliere Majin Bu Majin Bu Esatto Vai, Majin Bu Ah, contro Super Saiyan Goku Oh, mio Dio Adoro Majin Bu Però adoro di più Cell Bimbo Bus Non dimmi che sei così bassi con un po' così Au Che testo d'acciaio Sbaglio, tipo, si pompa Oh, oh Oh, la Super Mossa Ce l'ho fatta Ok Vai Che schifo Però io ce l'ho fatta Au Come hai fatto a farlo? Con la mezzaluna Tipo Tipo Goku può fare la KMMA Tipo, fai la mezzaluna E E premi il pulsante del Au Vieni giù Ho detto, vieni giù No Ma fanno ricaricare Che poi è bellissimo questo Vai via Perché vedi Vedi Allora Si gonfia Guarda il calcio Aspetta Guarda il calcio Vedi, si gonfia Vabbè Ah 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 Vada Wow Vada Vada Adesso mi giro E poi Vada Oh Vada Oh Che figata Si gonfia Tipo Tipo Au 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 No Mettila Io ti sto sopra Vada 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 Guarda il mio pugno Come si gonfia Au No Cazzo Era bellissimo No No Cazzo La 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 Devo Contrattoccare In qualche modo No Smascianasi Ma io non ce l'ho al naso Oh Vai Ma mi stavo ancora preparato Lassero dagli occhi No Cos'è Vabbè Ok Va bene No Cazzo Adesso che abbiamo imparato a usare il supermazzo Supermappe Supermappe No 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 Au Mi hai fatto male Io sono stanco Oh Beccati questo Aha Beccati anche questo E anche questo Sì ho vinto Che bastardo Sì Ma c'è il buvice Ma c'è il buvice Eh No Guarda che salsicciotti che ha per l'antenna Verde Che bei salsicciotti Oh Adoro 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 L'inutilità di questo gioco Voglio della cioccociocco Eh Voglio della cioccoletta No Sì Ma non c'è Majibuobi C'è No c'è Freezer Vediamo 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 Io penso che sceglierò Guarda che ci sono un casino di Goku Hai visto? Goku normale Goku bambino Goku Super Saiyan C'è solo Vegeta Super Saiyan E non c'è Vegeta normale Esatto Goku Super Saiyan Super Goku Ehm Super Saiyan 4 Goku Goku bambino Super Saiyan Oh c'è Junior Junior? Vai con Junior No Aiuto No No Freezer 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 piccolo Super 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 7 Sime no Sime Sime Vai che ti vedi No No Sime No No solo Allora Ci sarà un modo per fare anche il supermasso con piccolo Tu riesci a spararne 3 3 di seguito Sì Ah sì Ah sì Oh Non lo so neanche io Spiegati questo E anche questo No Non mi raggiungi Oh cazzo Si che mi hai raggiunto Perché c'è un contattore di stamina qui Oh no 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 Controattacca Controattacca Au Beccati questo No Uah Oh Cos'era? Cos'è? Boh Come ho fatto? Mi ho sparato nel fungo Devo riuscire a capire come ho fatto Ehm Let's map Ma perché non riesco a colpirti? Ecco qua Vai Vai Au 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 Questo è vero Dragon Ball Z Au 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 Piccolo che è stanco dopo due colpi Au 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 Lo sai che dovrebbe essere già uscito in Giappone il Il film quello con Con Freezer che Ehm Au Premerò tutti i pulsanti insieme per il contrattaccare Au Si è possibile Oh il pube Oh Ti faccio esplodere il pube Il pube Aaaaa 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 Adesso basta Aaaaa 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 Au 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 Aaaaa Junior sei inutile Che casuto Stupido Junior Junior sei inutile Sei inutile quanto Aaaaa Guarda che è nati che cosa l'arte che sei Si ha delle nati che so di orgoglioso Che copione di merda Aaaaa E' una battuta che sta diventando un tormentone ormai Aaaaa 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 Dai su vai avanti Stavolta userò un personaggio che non è un personaggio Dai E' un personaggio Che personaggio scegli allora? Non lo so Gohan mi sta sul cazzo Gohan? Si Perchè? Io uso Vajiro Eh io riuso Superman Supernano Supernano Si Do you seem happy? I won't let you interfere Esatto Con la mia felicità Sei felice Non ti farò interferire con la mia felicità Supernano Supernano Che poi questo è Questo vegeta Cioè Non capisco se è semplicemente vegeta No 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 Oh No Oh Ci sarà un modo per farti il big bang attack Oh no no cazzo Dannato Dannato Oh oh Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaah Cazzo! Sono caduto! Sai che fai? No. Ho fatto pure un'acrobazia hai visto? Tu puoi fare le acrobazie mentre sei a terra Ehhh? Ehhh? Sì pippa Aaaaaaaaaaaaaaah Pagherai come hanno pagato la maggior parte delle mie persone Cioè le nostre persone, siamo Saiyan, idiota Stiamo entrambi Saiyan Guarda, faccio freestyle Brake dance Brake dance, la Brake dance vince Che cosa stai facendo? Non lo so Che gioco di merda E contrattacca E vai Coglione Muori come hai vissuto Oh si, oh si, oh si Esatto Non ti ricorda qualcuno la sua faccia? Tipo Snape di Metal Gear 1 E cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Oh mio dio, è bellissimo Che gioco di merda, basta Dai facciamo l'ultima Del tipo chi vince ha vinto questo versus Devo impegnarmi In modo assoluto E userò, chi userò per impegnarmi? Trunks oppure Trunks? Che è Trunks? Ehm, visto che i miei preferiti sono quasi inutili Io mi sa che sceglierò Trunks oppure Trunks Little Goku No! Little Goku Oh Esatto Sì, esatto Sai che Goku Sia la versione italiana Che questa versione americana È doppiato da una donna? Oh caccio Intendo quello bambino Bambino Che sera Au No No Au Che cazzo? Schivato Ho schivato tutto Au Au Sono stanco Aspetta Au Au Atta Che bastardo Oh 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 Non ti inchiodare Oh Oh Sei inchiodato Se tieni premuto giù Oh Oh Sì E ora mi trasformerò in Super Saiyan Non c'è È vero Ciao 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 Ti prenderò al volo Ciao Perché è così lento? Ciao Sì Au Ma mi hai beccato sotto Non è giusto Ciao Sì Au Sì Basta Au Cula Au Cula Au Cula Morphys Begetta Au 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 Ai vuoi C'è Ca Merda 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 Non ho fatto un cazzo Non ho fatto un cazzo Ok Di nuovo Allora Au Qui Peccato Dove dovrebbe bastare Fa cazzate questo Non è una mossa speciale Cosa dai Potresti Riuscirci Au C'è un nano infame Au Ciao Ata Ata Donazione Il mio scroto Si Stupid and amazing Che ha detto? Non lo so Ma Che vuoi Cranks ha vinto Cranks Drogato Aia mi son fatto male il dito Oh si Vuoi vedere così Cranks Cranks Cosa Croc Non lo so Non lo so Che vuoi Non lo so Non lo so Non lo so Si